Il prefetto di Bari dal 1 agosto ha revocato il provvedimento di requisizione dei tre padiglioni utilizzati dalla regione per allestire la centrale regionale operativa soccorso sanitario Maxi Emergenze, quella dove in questo momento ci sarebbero una decina di pazienti ricoverati per il Covid, ma nella terza ondata, nel picco, ha accolto circa 150 persone, ha fatto reggere un po' tutto il sistema seppur io so sempre del parere che probabilmente utilizzando altri ospedali magari un po' lasciati andare nel corso degli anni avremmo avuto la moglie ubriaca e la botte piena perché poi ci sarebbero rimasti l'ospedale funzionante e la Fiera dell'Evante manteneva il suo ruolo di Fiera dell'Evante perché pare che anche questo abbia giocato un po' rispetto alla mancata campionare del 2021 bene, il prefetto cosa dice, Tino? Cosa dice? Eh che... non lo sai Non lo sai Il prefetto dice una cosa chiarissima, che se si tratta di emergenza dettata tra l'altro dal fatto che a marzo 2020 Conte aveva dato questa possibilità di requisire spazi per fini di protezione civile se è emergenza, è emergenza, quando dura è l'emergenza l'emergenza, finito l'emergenza poi bisogna attivarsi diversamente e quindi secondo qualcuno sai Kitty? Qualcuno Secondo qualcuno i ben informati dicono che in realtà attraverso questi provvedimenti il Ministero abbia voluto dire guardate che la Fiera dell'Evante non può essere utilizzata per fospedare, no? Eh beh, è un ragionamento stesso Ora già la logica, ma a rigore di logica potrebbe significare anche altro questa è una cosa che ci è stata raccontata Tino, il provvedimento, direivo, della requisizione dal 1 agosto degli spazi ricordi che alla Fiera c'è anche la vaccinale più grande del territorio è stato fatto prima che fosse stabilita la nuova data di chiusura dell'emergenza da parte di Draghi ovvero Tino, tu che sei tutto, il 31 di agosto dicembre questo è addirittura prima di quando Draghi ha prolungato l'emergenza fino al 31 dicembre questo che vuol dire? che quindi? non vuol dire niente non vuol dire niente è solo una notizia è una notizia sta di fatto che non è che adesso la regione, Tino, deve smantellare tutto entro nelle ultime ore, entro il primo agosto no, può stare proprio in virtù di questa emergenza di questa proroga di emergenza a livello nazionale certo è che però dovrà in qualche modo accordarsi con la Fiera dell'Evante perché altrimenti stare babusivo all'interno della Fiera dell'Evante c'è anche un fatto importante secondo la regione che cosa è questo? detto in politichese un atto dovuto dovuto, bravissimo le sai tutte un atto dovuto anche perché il Presidente Emiliano sai cosa vuole fare di questa grande struttura una volta che sarà tutto finito? una struttura permanente per la formazione anche se dovesse tornare l'emergenza per l'esercitazione la formazione a livello mediterraneo domai domai mediterraneo solo che questo appunto bisogna vedere fino a quando e se sarà possibile nel frattempo prendiamo atto che il Prefetto cosa ha fatto? ti ricordiamolo ha rivolto l'istanza di il provvedimento di requisizione Tino se lo hai capito tu se lo hai capito tutto l'hanno capito tutti dimmi ma non è che Emiliano è troppo in là e noi siamo rimasti troppo da è probabilmente la visione Tino se tu tenivi una visione di il Presidente della Regione ti votavano tutti invece no lui ha la lungimiranza di capire che questo all'interno della Fiera dell'Evante può diventare un grande polo per la formazione per la gestione delle maxi emergenze nel caso in cui succedono maxi emergenze e la Fiera dell'Evante però dove la facciamo? sempre qua eh? stringimci tutti quanti Tino stringi 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 facciamo tutto il panino poi te lo vado a comprare tu il panino te lo porto io da casa te lo faccio io te lo faccio fare dalla maniera lo fai con la porchetta? va bene con la porchetta grazie devo accontentare sempre io devo accontentare sempre tutti devo accontentare non basta mai niente allora ti dici fai così fai con la nono fai il centro regionale operativo di soccorso sanitario maxi emergenze e va bene e lo devi togliere va bene è la Fiera dell'Evante è colpa tua è colpa mia e dai non è possibile sperare